Buongiorno, mi chiamo Paolo, attivissimo, è il mio vero nome e cognome, molti pensano che sia un pseudonimo ma mi chiamo veramente così. Sono qui a Torino a A Bit of History per raccontare un po' il mio mestiere particolare che è quello di fare il giornalista informatico, insomma una specie di minotauro, mezzo uomo metà giornalista che va a indagare sulle storie che vengono pubblicate sui giornali, sulle testate giornalistiche tradizionali ma anche sui social network dagli utenti comuni. È un lavoro che io trovo assolutamente affascinante perché non solo scopri tante cose, vedi se sono false o se sono vere, ma scopri anche i meccanismi che ci sono dietro il successo delle comunicazioni di questo tipo. Per esempio fenomeni nuovi come il clickbait, ossia il fatto che molte testate giornalistiche oltre che molti siti non giornalistici usano dei titoli a chiappa click perché guadagnano dalle informazioni, dalle pubblicità che poi vengono visualizzate. Gli utenti cliccano, attratti dal titolo poi scoprono che in realtà la notizia è assolutamente frivolo, è inventata. Ho scoperto insieme a tanti colleghi che fanno i cacciatori di bufale come me anche fenomeni di vere e proprie fabbriche delle fandonie, siti che cinicamente inventano qualunque notizia shock politica, sociale, di salute per poi ottenere degli incassi pubblicitari. E questo è un fenomeno che secondo me è socialmente molto pericoloso. E in questo senso sono venuto a raccontare le mie esperienze di giornalista che usa gli strumenti dell'informatica per scoprire come stanno realmente le cose e anche per condividere questi strumenti. Non ho una ricetta magica, non sono il depositario della verità, però ho visto insieme a tanti colleghi che esiste una specie di cassetta degli attrezzi che consente di mettere insieme alcuni strumenti e fare verifiche abbastanza facili alla portata di chiunque sulla qualità di molte notizie. Non di tutte, ma per esempio sulle fotografie esistono servizi come tinai.com che permettono di vedere se una fotografia è davvero scattata oggi come viene detto da alcuni siti o se invece è una foto di repertorio o se è stata manipolata. E si comincia con strumenti semplici come questo e poi si va avanti, si fa quello che si chiama in gergo giornalismo di precisione. Oggi la cosa bella è che internet da una parte si diffonde le notizie sbagliate, false, contraddittorie, ma è anche lo strumento, è l'antidoto che ci può permettere di resistere a questa ondata di cosiddetta fake news. Buon lavoro. Grazie a tutti.